La ripresa dei numerosi cantieri sull'A14 dopo lo stop imposto per il periodo vacanziero stanno creando enormi disagi. I lavori in questione, attivi da diversi mesi, riguardano alcune delle gallerie e non solo del tratto compreso tra Pescara Nord e Val Vibrata, nell'ambito del programma nazionale che Autostrade per l'Italia sta portando avanti per l'amodernamento della rete. Ma ieri è stata una giornata nera per la viabilità autostradale, in particolare nel tratto Terramano. Alla problematica dei cantieri che stanno creando rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta, si è registrato anche un grave incidente nel tratto compreso tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Pineto, che ha interessato 5 autovetture. Avevamo che con la ripresa dei lavori sull'A14 ci sarebbero stati grossi disagi e criticità. Ieri ai lavori si è aggiunto anche un incidente facendo riversare i veicoli e gli automobilisti lungo la statale 16, dove tra l'altro in concomitanza vi è stato un ulteriore incidente, quindi è stata una giornata veramente importante. I lavori che noi auspichiamo possano tenersi celermente, soprattutto in ore in cui non vi è un particolare di flusso di veicoli sull'autostrada, quindi le ore notturne. Il nostro è un territorio interessato in particolar modo perché abbiamo lo svincolo dell'A14 e quindi abbiamo le aperture e le chiusure, quindi tutti i mezzi pesanti che sono costretti a transitare sul nostro territorio e anche con i danni che spesso ritroviamo nei pressi delle rotatorie. La problematica dei disagi sull'A14, una questione che oramai da anni sta interessando anche il territorio abruzzese e su cui la FITA CNA chiede un focus al Governo centrale. La situazione è drammatica sulle nostre autostrade e sulle nostre strade principali. il problema più grosso credo che sia legato alla carenza e la insufficienza delle infrastrutture che abbiamo sul nostro territorio. È chiaro che non c'è stato un adeguamento, noi ci ritroviamo ad avere un'autostrada a due corsie che andava bene forse 50 anni fa, ma il traffico oggi è notevolmente aumentato, cioè non ha più un termine di paragone rispetto a quando esisteva questa autostrada. È altrettanto vero che i lavori sono necessari, che i lavori si devono fare e che non ci sono alternative, non ci sono vie d'uscita e questo purtroppo causa incidenti a volte mortali, a volte gravi, con rallentamenti che incidono notevolmente sulla vita, sul benessere e sulla qualità del lavoro. È una situazione, quella dell'autotrasporto, veramente da attenzionare. Io credo che il Governo centrale debba veramente fare un punto, un focus importante su tutto quello che è la problematica dell'autotrasporto, appunto dalle infrastrutture ai costi che sono diventati veramente, veramente sorbitanti. La problematica è stata portata anche all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nella visita fatta a Silvi. Ha preso un dossier con tutte le informazioni che gli servono per comprendere come fare per velocizzare i cantieri e per sospenderli perché in alcuni tratti sono veramente pericolosissimi e soprattutto sono ingiustificabili in alcuni momenti dell'anno dove l'affluenza del passaggio delle autovetture è di gran lunga superiore alla media degli altri mesi. Quindi noi la problematica la seguiamo da vicino, però sia da Vicepresidente della provincia sia da Sindaco del Comune più grande costiero, mi faccio assolutamente portavoce insieme con Andrea Scordella per cercare di sensibilizzare il Ministero, però lì la partita più grande la gioca da Regione Abruzzo.